Valerio Baldovin, Volpato ha detto che non mi aspettavo un 3-0 sinceramente, però Padova questa sera ha giocato veramente di concretezza, avrà anche sfruttato l'assenza di Kovacevic, però comunque è trento e trento. Tutte e due le cose, chiaramente. Sì, abbiamo giocato una buona partita, anzi un'ottima partita. In generale abbiamo fatto molto bene sul cambio palla, forse qualche errore di troppo servizio al secondo set, ma con loro comunque non puoi pensare di gestire la battuta troppo in sicurezza. Siamo contentissimi, sono orgoglioso del risultato. Adesso si apre un altro capitolo, andiamo a giocarci gara 3 da loro, sappiamo che sarà difficile, però sappiamo che possiamo giocare bene e metterli anche in difficoltà. Questa sera forse è funzionato quello che era venuto un po' a mancare in gara 1, anche al servizio, ad un certo punto trento ha incominciato a soffrirlo. Sì, questo è anche un po' connesso al fatto di giocare in casa e fuori casa, chiaramente loro sono più efficienti del servizio quando giocano in casa, come lo siamo noi. Qualcosina abbiamo cambiato nel modo di approcciare la partita, però direi che comunque è stata una vittoria di squadra, nel senso che tutti quanti si sono fatti trovare pronti e presenti e hanno risposto in maniera positiva. Grazie, bocca al lupo. Grazie